ciao a tutti ragazzi siamo tornati su dort rally 2.0 ho detto una cavolata l'altra volta dicevo svezia come ultima località invece una cavolata siamo in new england siamo in usa praticamente la conformazione del territorio praticamente come l'inghilterra o comunque molto simile per questo probabilmente la chiamano la new england e niente cambio di livello 58 metri siamo praticamente in pianura e 15 le orarie di partenza e guardiamo il panorama siamo sotto la pioggia ragazzi bellissimo qui c'è da divertirsi veramente tra fango e di tutto di più ok io una cosa sono curioso perché vi ho detto già altre volte che avevo fatto un campionato personalizzato volkswagen polo e poi alla fine queste ultime due località che abbiamo fatto avevo scelto la ford fiesta ma è stato un errore infatti non mi trovo tanto bene io spero che anche in questa ultima località ci sia la volkswagen polo lo spero tanto no la fiesta porca scusate il termine a niente continuiamo con questa ragazze ormai mi sono abituato tanto niente iniziamo subito siamo in nona posizione del campionato totale ragazzi abbiamo recuperato tantissimo speriamo di far bene in questa località inizia sei sinistra lunga 50 cento su crinale in cinque sinistra buona fortuna si parte ragazzi fra mano tirato 5 4 3 2 1 via sei sinistra 50 tieni il centro su crinale in cinque sinistra in sei destra su crinale molto lunga molto lunga stai all'interno su crinale salto 100 3 sinistra in salita 90 tieni il centro su crinale salto in quattro destra lunga 120 salto 5 sinistra lunga apre sul salto 6 sinistra 6 destra su crinale molto lunga stringe in uno sinistra 150 6 sinistra 6 sinistra piatto destra su crinale 200 4 destra lunga apre 100 100 rallenta 4 sinistra lunga in svolta non vista tornante molto stretto destra 80 6 sinistra apre 70 su crinale attenzione 5 sinistra su crinale in sei destra lunga in sei destra lunga apre 80 su crinale 5 destra stringe uno lunga apre 20 svolta uno sinistra lunga oltre doppio incrocio 80 2 sinistra in tre destra lunga in tre destra lunga uno destra 80 angolo retto destra 100 uno sinistra 50 50 5 destra in cinque sinistra apre su crinale 80 taglia 5 destra in sei sinistra su crinale lunga 50 su variante 5 destra in sei sinistra e tieni il centro su crinale in attenzione quattro destra stringe apre su crinale stai a centro su 180 quattro destra lunga in tre sinistra molto lunga stringe 2 dopo l'incrocio in quattro destra in sei sinistra in sei sinistra apre su crinale molto lunga stringe 4 in sei destra 50 in sei sinistra 50 in sei sinistra in sei sinistra in sei sinistra su crinale molto lunga stringe 30 su arrivo eravamo primi ragazzi sei destra allo stop non ci credo che un alberello del cacchio una fraschetta così ci abbia distrutto la macchina no vabbè comunque bellissima sta località ciavoli che figata tappa completata cioè guardate qua come mi ha ridotto la macchina quello ramoscello del cacchio niente tappa completata ottava posizione ragazzi abbiamo cominciato un pochettino male ma dai la prossima volta ci rifaremo ragazzi ok niente noi ci vediamo al prossimo appuntamento ciao il fianto ragazzi vi ricordo che questa è l'ultima località per finire il campionato quindi abbiamo 12 tappe anche in questa località dopodiché chiudiamo con Dort Rally 2.0 qui su YouTube ma ci sposteremo su Twitch in live niente ragazzi un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento ciao a tutti